Come ogni anno, da ben dieci anni, Hyde Park ospita l'evento natalizio più atteso da grandi e bambini, Winter Wonderland. Il famoso parco londinese si trasforma nell'occasione del periodo natalizio in uno spettacolare e magico paese delle meraviglie ad ingresso gratuito. Sigla! Da venerdì 18 novembre 2016 a domenica 2 gennaio 2017, Winter Wonderland sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22. Ad animare lo spirito natalizio in quel di Londra ci saranno spettacoli, le giostre dell'Una Park, un enorme mercatino di Natale ed una ruota panoramica che ti porta a 60 metri d'altezza con viste mozzafiato sullo skyline della città. Ma questa volta dà una prospettiva diversa dal classico londonario. In generale, come detto prima, l'ingresso a Winter Wonderland è gratuito, ma alcune attrazioni ha emesso un appagamento, tra cui quelle più famose e sempre presenti in ogni edizione. Tra gli spettacoli e i divertimenti appagamento, che possono essere prenotati sul sito, ci sono. The Jam Observation Wheel, la famosa ed altissima ruota panoramica. Ogni giro ha una dorata dai 12 ai 20 minuti, molto romantica per le coppie e fantastica per tutta la famiglia. Una struttura perfettamente circolare, capace di darti la sensazione di toccare il cielo con un vito. Nonostante ciò, sarai comodamente seduto in una delle cabine per vivere atmosfere uniche tra i colori spettacolari della capitale. The Sooty Christmas Show Suoty, l'orso marionetta creato da Henry Corbett nel 48, è il programma per bambini più longevo del Regno Unito. Appariva inizialmente da solo nella TV britannica e successivamente fu accompagnato da quelli che poi sono diventati su Inseparabili Amici. Sarà possibile assistere a questo show natalizio per chi conserva uno spirito ancora bambino ogni giorno alle 11, a fretta di guilli a comprare biglietti in premenda sul sito ufficiale per chi vanno a ruba. Sirk Berserk Uno spettacolo senza precedenti, tra i rombi dei motori e situazioni suggestive. L'unione del circo contemporaneo e le azioni spettacolari dei protagonisti hanno dato vita a questo spettacolo talentuoso che lascia tutti senza fiato. La compagnia internazionale comprende oltre 30 giocolieri, acrobati, trapezisti, ballerini, percussionisti, stuntman spericolati e non poteva mancare il famoso clown Tweedy. Compreso nel biglietto dello show, potrai anche vedere l'esibizione più pericolosa del mondo. La leggendaria moto nel globo della morte. Anche in questo caso gli orari sono programmati e su prenotazione. Ore 19, ore 20 ed ore 21. The Magical Ice Kingdom Un avventuroso viaggio alla scoperta dell'incantevole isola ghiacciata. È una struttura costruita con 500 tonnellate di ghiaccio e neve. Le sculture che troverai al suo interno sono tra le più disparate e curate in ogni minimo dettaglio. Davvero uniche al mondo. Infatti più di 50 artisti sono stati coinvolti nella realizzazione di queste opere impiegando più di 4 mesi per completarle. Nel regno con temperatura meno 10 potrai vedere con i tuoi occhi una realtà alternativa fatta di ghiaccio, tra cavaliere d'armatura, maestosi cavalli, draghi, barelli di vera lucidi e tanti piccoli miranni animali della foresta. Insomma, un vero e proprio regno incantato. E poi c'è l'ice skating. Questa è la pista di pattinaggio più grande del Regno Unito, con sessioni che partono ogni ora dalle 10 alle 21. È davvero molto bella e se sei una persona socivole, ti assicuro, avrai l'occasione di conoscere davvero tante persone. Anche se non sai pattinare su ghiaccio, provaci. Sarà un'esperienza davvero divertente, ma attenzione a non farti male però, eh? E ancora c'è lo Zipos Christmas Series. Seduto comodamente nel grande tellone riscaldato Mega Dome, ti sembrerà di stare al teatro e potrai vivere 45 minuti di puro divertimento tra clown, giocoliere, accrobati e contorsionisti. Gli spettacoli sono previsti alle 12.30, alle 14 e alle 17 ed eccezionalmente alle 15.30 in alcuni giorni segnalati sul sito ufficiale di Winter Wonderland. E poi quello che piace tanto a me, il bar house. Pavolo, sedie e bicchiere di ghiaccio, completamente avvolto da un'atmosfera sotto zero. Potrai vivere i momenti quotidiani con i tuoi amici, ma in una location sicuramente suggestiva e poco diffusa. I colori cristallini ti avvolgeranno mentre sorseggerai il tuo drink preferito. C'è modo migliore per assaporare un cocktail londinese ed ovviamente farsi venire il raffreddore? No. Vi consiglio anche di vedere The Nutcraper on Ice. La celebre favola del principe schiaccianucci è raccontata attraverso uno straordinario spettacolo su ghiaccio, con una coreografia creata appositamente per Winter Wonderland. È una storia romantica e a tratti triste dello schiaccianoce, che altre non è che un principe condannato dall'incantesimo del re de Tocco. Sessanta minuti di pura armonia tra magia e racconto. Con tutto ciò che offre Hyde Park in questo periodo, persino agli adulti verrebbe voglia di pronunciare l'innocente frase, andiamo sulla giostra, perché in fondo, come disse un famoso scrittore, tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se mi stai guardando su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare il tasto Mostra per e per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!